Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un after fix portato da Brontango Brontango 2 mi sembra, qualcosa del genere Per risolvere il problema del fix che ha messo la Rockstar Ovvero che quando siamo sul veicolo non ci fa tirare fuori il telefono O meglio, quando tiriamo fuori il telefono, come state vedendo, vi sbatte fuori dall'auto Per sistemare questa cosa, noi che cosa dobbiamo fare? Quando ci saliamo in macchina in pratica, dobbiamo tirare fuori il telefono E all'istante, quasi all'istante ragazzi, dobbiamo premere R2 Appena pizzicare R2, non schiacciatelo perché altrimenti l'auto vi andrà sotto mappa Lo dovete appena pizzicare R2 Quindi a questo punto la duplicazione avverrà come nel glitch in precedenza Cambia solo questo piccolo passaggio ragazzi E una volta fatto ciò, io sono uscito e rientrato perché comunque erano buggate una dentro l'altra Le auto, però non è necessario Insomma, una volta fatto questo potete incominciare la duplicazione A questo punto, che cosa fate? Andate in Pegasus, comprate il modulo per il vostro centro operativo Comprate l'officina, insomma, con l'armeria E il gioco è fatto ragazzi, siete pronti per altre duplicazioni Per altri big money ragazzuoli E a questo punto vi trovate l'auto dentro il centro operativo Buggata nell'officina, come nel glitch in precedenza Io ve lo sto facendo vedere così In maniera tale che vi rendiate conto Di come va fatto, insomma, e di com'è il glitch E adesso capisco anche l'occasione per dare una risposta A quelle persone che mi chiedevano se il centro operativo mobile Si può spostare quando l'auto è buggata Io lo sto facendo ragazzi Potete spostarlo tranquillamente, non accade nulla Mettetevelo più vicino possibile al garage Così almeno state tranquilli E potete fare tutto rapidamente Una volta che vi siete sistemati al centro operativo E avete sistemato tutto Che cosa dovete fare? Con l'auto buggata nel centro operativo Andate in garage Chiamate, non chiamate Prendete una LG Uscite fuori La lasciate fuori dal centro operativo E andate a piedi dentro al centro operativo Ragazzi Non vi avvicinate troppo Altrimenti succede come è successo a me Che non compariva il pallino azzurro Una volta dentro al centro operativo Salite sulla vostra Sultan Con targa personalizzata E cambiate il colore Il colore semplicemente è della targa E automaticamente l'Eleggi che voi avete fuori Diventerà una Sultan A ogni passaggio che farete Avrete una duplicazione Allora Per alcune domande che sono sicuro Che farete Vi rispondo in anticipo Se la macchina va sotto mappa E si bugga ragazzi Dovete comunque diventare presidenti E rimandate la macchina in deposito Se la macchina la vedete Buggata sotto al centro operativo No problem Rimandate la macchina in deposito Se non so ragazzi Non ci stanno tantissimi grandi problemi Se non riuscite ad avere tempistica Con i tasti ragazzi Su questo non vi posso aiutare Dovete trovare la tempistica giusta Quindi non so che altro dirvi L'unica cosa che dovete fare Per baggarli all'inizio È estrarre il telefonino Quando siete in macchina E immediatamente premere R2 ragazzi Ma non premere Piggiare a fondo Perché se lo piggerete a fondo Tutte le volte la macchina Si buggerà sotto mappa E dovrete ripetere il glitch Quando la macchina vi si bugga sotto mappa Ragazzi L'unica cosa che dovete fare È uscire dal centro operativo Con la macchina E rientrare nel centro operativo Con la macchina Altrimenti Continuerà a baggarsi Sotto mappa A me è successo così ragazzi Quindi È un consiglio che vi posso dare È abbastanza semplice Come glitch È come il vecchio L'ultima parte del glitch Cambia solo l'inizio La Rockstar ha provato a fixare Ma per l'ennesima volta L'ha presa nel deretano ragazzi Quindi Continuate ad approfittare Di questo glitch Perché Penso che non ce ne saranno Altri così semplici Almeno che io Mi ricordi No Ci sono stati Però Questo qui è bello semplice Ragazzi Quindi L'unica cosa che vi posso dire È Approfittate veramente Di questo glitch Detto questo Vi lascio Un saluto Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie per la visione!